Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come.La chef milanese, con origini cinesi, Rosy Chin, non ha mai nascosto di aver trasformato e lavorato molto sul suo aspetto esteriore Una battaglia che ha narrato in diretta, al GF 2023. 60 chili di rabbia, di cui si è liberata Oggi invece si parla di Samy Lalui, emersi delle foto del suo passato I fan non la riconoscono.La ex professoressa dell'eredità era comunque bellissima, che che ne dicano molti telespettatori online, e su questo non ci piove Eppure stando alle centinaia di commenti che si stanno depositando sui social, Samy Lalui apparirebbe sensibilmente differente rispetto a come la vediamo adesso in quel del GF 2023 Samy Lalui, com'era prima del GF 2023.Chissà che cosa proverebbe la concorrente dello spiato appartamento di Cinecittà scoprendo che oggi tra Twitter ed Instagram si parla soprattutto di lei e del suo aspetto Intanto al GF 2023 ha lasciato che venisse fuori un suo lato tenero e fragile, sicuramente più rilevante dei possibili ritocchi estetici sul suo volto, raccontando del complicato rapporto con suo padre Ma online parlano solo di chirurgia e botox.Al momento il naso di Samyra Lui sembrerebbe decisamente più assottigliato di un tempo, come si vede nello scatto che la ritrae in qualità di concorrente di Miss Italia 2017, dove tra l'altro si classificò terza sul podio Gli zigomi sarebbero più pronunciati e così pure le labbra. Mi sento sconvolta, oltre alle labbra a me non sembra tanto diversa, i pareri discordanti Di certo trucco e sopracciglia giocano la loro parte.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video